akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio game 89 siamo tornati su fifa 15 e no perché c'ho i capelli che fanno schifo siamo tornati su fifa 15 in un nuovo opening pack da paura dopo tanto tempo che non li facciamo ho speso qualche soldino in fifa points qualche soldino 4.600 fifa points ma perché perché c'è scoppiato il delirio dei toti si esatto è scoppiato sto delirio io voglio stare in mezzo a sto delirio non voglio rimanere da parte madonna centrocampisti di maria iniesta cross d'accordo purtroppo si sono persi i difensori perché cose lunghe mamma mia ragazzi ma siamo e poi c'è però a turiz no oppure totti e tutti gli altri eccolo qua hanno cambiato oscar ecco ecco quindi siamo un po di robetta cesta se noi andiamo nel negozio e noi andiamo nel negozio i pacchetti speciali non ci stanno quelli promo non ci stanno ma ci stanno i pacchetti giocatori oro premium noi apriamo questi dieci pacchetti d'accordo 10 oro di cui tre rari solo giocatori mamma mia signori devastate questo video di mi piace e se troviamo un toti non lo so anche perché ho letto che durano solamente 48 ore questi qua acider bolina metteranno gli attaccanti e la soccarsi ma quindi facciamo così se volete un altro opening pack degli attaccanti dobbiamo arrivare a 25 mila mi piace quanto vengono i pacchetti 25 esatto apriamo il primo guarda se troviamo c'è ragione c'è ragione se troviamo un toti si piazza di questa fa spacco ma perché tu ogni volta che le chiesti da me di che sei violento no 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 ma che invece vuoi di quando te c'è la carta blu te fanno eh ma si c'è ragione te fanno cucu fanno cucu capito ma a me sai che mi fa cucu qua ma a me sai che mi fa cucu qua ora ci fa trovare di maria o crossetto allora io ve lo dico io ve lo dico per me non trovo un cazzo e sto video non lo riesco un'altra volta a un po' ma sei pessimista eh si ve lo dico allora te lo dico ve lo dico non riesco a trovare niente chiudi gli occhi ci penso io perché se me giro poi non mi entrava mai più un po' la tua legge e vabbè qua sito ma come me ne vado chiudi l'occhio a me va bene ci penso io eh one two e three non ho trovato un cazzo non ho trovato un cazzo aspetta guardami che ti ho fatto trovare oh giù c'ho c'è jacquinn del amour e andiamo con jacquinn occhio che fanno fai così mi dai un cazzotto in bocca però non ce l'ho più mi sono stappato 20mila di vita 19mila però uno if uno if e ce lo teniamo ce lo teniamo e questo lo teniamo tutto e l'altro quattro figli no un altro un altro però io vorrei uno toti no adesso però no 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 adesso perché ci fa schifo no ancora con questi crediti eh lo so so abituato basta vai oh però uno if l'ho fatto trovare siii io vorrei i toti sinceramente se è possibile vorrei un toti un toti madonna mia carco io c'ho paura quando saprano sti pacchetti oh abbiamo trovato cozzati che è il migliore porco te c'hai paura oh cazzo c'hai paura no vabbè c'ho pure perché se va come dev'annà ha un po' con questi crediti ma no è un trucco per trovare ahah perchè in bcaa gli esporti così AAAAAH ORCO SIO quasi quasi ma non mi ha preso il colpo perchè era dei colori differenti ma non ti crede perchè è bianco c'è stato un attimo di è una leggenda quella oh questo ho trovato 50 volte if ieri rulli dei tamburi c'hanno 50 volte if mi forco dai dai che ce la puoi fare speranza ci vanno 5 macchie ho speso già 20 euro ragazzi ci stanno 5 macchie ci stanno 5 macchie io almeno non trattengo anche voi ma a voi chi vi trattiene a Berg questo ha lì ma quale rossatti vabbacca culo c'è solo due a turiz metta una rossattiva eh l'artrii vabbè però lo sai il problema è non vogliamo iif no oggi ni volevo l'if no o ci fai trovare toti o altri ma l'if ni volevo no io voglio vorrei vorrei uno di Maria vorrei vorrei uno i toti i toti niente oh noi salteremo sulla sedia si io la spacco e da una gengivata sul tavolino perché troviamo lui manzotino manzokic bello bello e guarda bello che roba bello bello qua devo qui 40.000 di aprire le ultime chitte a 15.000 ma tu non hai capito io finisco pure tutti quanti con l'arte ma ma si ma apriamo tutto tanto due if l'avevamo trovati il cazzo ce frega ma tante soldi sui miei attenzione ragazzi attenzione marcatraia me la manca il tempo di parlare vabbè dicevo attenzione attenzione guarda tanto che ti dice però visto mamma mia sono ricco i due bachitti hai finiti sono ricco vai con i fifa point mamma mia vai con i fifa point vai con i fifa point i fifa point che ci fanno trovare lui di Maria col cazzo madonna mia ma uno blu ma me lo fai trovare e beh mamma mia la soddisfazione quello dietro il catalizzatore cosa d'altro quello che vieni a parte quell'altro quell'altro a destra a destra a destra ecco sinistra ecco quello che vieni a parte ragazzi l'ultimo pacchetto con i fifa point eh si con i fifa point perché poi te ne rimangono 200 eh si e noi adesso troviamo cross maria cipostra piazza in corpo mamma mia mamma mia che schifo mamma mia a fermi tutti pure mille crediti eh no 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 questo la trova molino ti lo danno proprio il regalo ti lo danno proprio il regalo si si mi fanno 10 mila crediti di regalo la panca sulla spalla mi danno complimenti anche mo lo posso permettere mi permetto questo ma io lo spesseremo la maledizione dai eh adesso se lo trovi qua pensa 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 PENZA PENZA caputana eh guardali i credit che c'ha mamma mia veramente oh tacchetto gratis helpimidas che ce fa estrovares la merda dicevamo dopo oh io consumo anche questi 58 mila mia che te fregando sono qui regalo vai rega 40 euro ho speso son dettagli boni sono dettagli mamma mia eccolo ecco ecco vediamo lui baronna mia Rafinha oh comunque non vanno sondaggi 80 eh eh no cioè si vergogni si vergogni e sport guarda dammi qua dammi qua che mi sento carico guarda come si aprono i pacchetti guarda un po e poi non mi ringraziare no no non mi devi muovere e ingraziare ma guarda sei tranquillo guarda non mi devi ringraziare no no va alla samba non ti ringrazio ma neanche guarda ma non me ne fregavo con niente è bravo madonna lo so lo so dai sono gli ultimi due pacchetti e poi una settima e 5 lo prende forse forse no no lo prende lo prende lo prende lo prende il culo però lo posso prendere nel cammin di nostra vita mi ritrovai Tito con una matita che dolor dove mi hai messo la matita no è una matita a multicolor vai ragazzi e adesso lo troviamo un altro if per lo questi sono pacchetti da pirli attenzione attenzione qui si festeggia dice qualche cosa vattene le ultime due schifezze e te compri andrà 15 mila ma qui sotto sono belli quelli blu ma noi comunque non vale li aspettavamo tanto comunque se non lo fa trovare almeno uno si deve far trovare questi fascia da muro l'ultimo pacchetto di oggi del solito l'ultimo pacchetto è sempre quello un po più signori il pacchetto della leggenda messi ci fa trovare di maria toti magari lo dico io e guardalo dicevo quindi 380 l'ha fatto trovare esatto perché sono un momento insieme 8 6 24 e niente riporta i due quindi signori lo spacchettamento dei centrocampisti è andato come è andato due if va bene quindi se superiamo i 20 mila like faccio anche quello degli attaccanti e lì si divertimo e la proprio dai è bella bella e vedeva che non trovo un cazzo io 40 euro vabbè due if fatto mo non faccio più